Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 27 luglio e facciamo una fantastica morning session alle 8.06 del mattino. Parleremo di Bitcoin con l'Evoluta, un metodo statistico-matematico che permette di comprendere quale può essere il possibile andamento con un metodo non discrezionale, ovvero che non dipende dalla mia capacità non legata a un qualche cosa che invece possono imparare gli altri per fare trading. Possono imparare tutti nella realtà dei fatti. Vi faccio questo video di nuovo da un nuovo posto, da un punto nell'oceano indiano e il Wi-Fi è quello che è, per cui cercherò come al solito di essere più rapido possibile. Allora, prima di tutto, impressionante quanto quando anche disegno le cose poi il grafico ci si adatta molto, alcune volte. È sempre indicativo il disegno che faccio, però anche questa volta direi che è andata egregiamente bene. Analizzando da qui abbiamo che il mensile iniziato da qua potrebbe essersi interrotto a 35 barre per poi chiudere con un raccordo tra un mensile e un mensile, quindi di grado T-1. Questa è una delle opzioni sul campo, opzioni che la matematica ovviamente tiene sempre in conto perché se parliamo anche soltanto di quantistica ce ne sono infinite di possibilità. E in un sistema statistico-matematico, quando non sappiamo in quale delle due, tre opzioni siamo, i tre possibili risultati dati da raccordi di centratura differenti, cosa facciamo? Facciamo quello che ci diceva Gann, ovvero non ci muoviamo. Attendiamo un momento più corretto per capire come impostare e programmare un trade e soltanto dopo ci muoviamo, altrimenti aspettiamo. Intanto non siamo obbligati a fare i trading tutti i giorni, giusto? Come detto, qui può essersi interrotto appunto il nostro mensile, non soltanto un settimanale, con un ultimo settimanale tra l'altro ribassista, che ha tutte le condizioni per la chiusura di un mensile, perché basta un T-1 ribassista, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, figuratevi, T-3, un'onda a 5 tempi ribassista, da qui può essere appunto partito un raccordo, sempre perfetto, grado T-1, che attenzione, il grado T-1 dura al minimo tre giorni, in media 4, massimo 5, quindi non è che è finito su questo minimo, dobbiamo vedere se è terminato qui. E come faremo? Di nuovo molto semplice, se avete notato che la nostra media mobile va a fare da resistenza, abbiamo 1, 2, qui bucata un pochino, 3, 4, 5, se non bucheremo la media mobile non andremo da nessuna parte. Oltretutto, questo marcato come nuovo T-3 è arrivato per ora soltanto a 20 barre su minimo 24. Andremo a vedere dove chiuderà dalla 24esima in avanti, ovvero dalle ore 11 in avanti. Qui non è detto che sia partito il settimo T-3 inverso, anche se ho messo un allarme per vedere, di valutare, di andare long. Nel caso invece il sesto T-3 inverso si fosse chiuso qui a, guardate quanto, 44 barre, attenderei le due condizioni per la partenza di un settimo T-3 inverso, che sposterei appunto a partire dalle ore 8, e in caso di violazione del massimo da cui è partito, ragionerei di un long, con target prima il velo superiore della nuvoletta Kumo e successivamente, se volesse fare una sparata su molto alta per la partenza appunto di un nuovo mensile, sicuramente appunto la media mobile ha 200 periodi. Questo direi che è abbastanza tutto, vi faccio vedere anche qui con bacia tutto come discorso. Questo raccordo non l'ho ancora segnato perché preferisco prima finire di vedere che cosa succede, anche perché ribadisco ci sono ancora almeno una alternativa che, ribadisco, può essere corretta, anche se non abbiamo, da qui a qui abbiamo 57 barre, anche se non abbiamo lo swing, da qui potrebbe essere partito un settimanale già completamente ribassista, quindi è per quello che ci muoveremo solo esclusivamente con swing, volumi e tempo ciclico come abbiamo imparato a fare. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida, splendida giornata, qui lo sarà sicuramente, anche se purtroppo fuori in furia un monsone che però ci permetterà di avere l'opportunità di fare, di occupare il tempo in un altro modo. Arrivederci!